Buongiorno FTA Online, avvio positivo questa mattina per la borsa, il nostro Fuzzimib guadagna al momento l'1,08%, siamo a 21.288 punti, situazione positiva nel breve, l'indice ha disegnato un piccolo doppio minimo nella seduta di ieri intorno ai 21.000 punti, confermato al di sopra dei 21.170, quindi target della configurazione 21.340-3.50 circa. Borsa positiva grazie al settore oil che questa mattina si comporta molto bene, andremo infatti a guardare insieme l'andamento di un paio di titoli che prospettano un quadro grafico interessante. Vi ricordiamo che sul sito www.ftonline.com nella sezione formazione sono disponibili i corsi di analisi tecnica di accesso gratuito e vi invitiamo a guardarli, a commentarli e farci avere la vostra opinione. Passiamo ora allo studio, come abbiamo detto, dei titoli del comparto oil, partiamo con Saipem, rialza al momento del 3,67%, siamo a 7,76 Euro, quindi esattamente in coincidenza dei massimi del 17 dicembre, toccati attorno a quella quota. Vediamo che le quotazioni hanno disegnato una base, una sostanziale zona di accumulo nelle ultime settimane, a partire dal minimo dell'8 dicembre con una base a 7,30 Euro, il superamento di area 7,75-7,76 sarebbe quindi la conferma della volontà del titolo di mettere a segno un rimbalzo. Notiamo che la fase discendente che si è sviluppata dal picco di fine ottobre è contenuta all'interno di un canale, quindi due linee parallele, molto spesso un comportamento di questo tipo anticipa una fase nella direzione della tendenza precedente, quindi il movimento contenuto all'interno del canale può essere considerato un banner, il trend precedente era quello dai minimi del 29 settembre di quota 6,97 e se ci fosse lo sfondamento del lato alto di questo canale che attualmente transita poco a di sopra i livelli attuali in area 7,90, sarebbe possibile immaginare un nuovo tentativo di rialzo che avrebbe come obiettivo il lato alto di questo altro canale che è possibile disegnare dai minimi di fine agosto e che si posiziona intorno ai 9,40 Euro. Quindi a di sopra di 7,90 avremo uno spazio di crescita abbastanza esteso per il titolo che rimarrebbe comunque sempre compreso in un trend di fondo ribassista che è quello che parte dai massimi di maggio, ma comunque ci sarebbe spazio per un trading di breve al rialzo. In viceversa se le quotazioni dovessero scendere al di sotto dei minimi dell'8 di dicembre a 7,30 e poi confermarsi con la violazione della linea che abbiamo disegnato passante a 7,22, in quel caso probabilmente nemmeno i minimi di agosto a 6,86 Euro basterebbero per fermare la discesa del titolo. Situazione positiva questa mattina anche per Tenaris, il rialzo del 3-4% circa, siamo a 11,22 Euro, quindi leggermente al di sopra del massimo del 16 dicembre è toccata a 11,20 Euro e anche in questo caso è possibile individuare una zona d'accumulo, praticamente un triplo minimo con i tre minimi allineati intorno ai 10,60 Euro, il superamento quindi del picco del 16 dicembre dovrebbe lasciare spazio ad una fase di rialzo verso i 12 Euro circa. Intorno a quei livelli il titolo incontrerebbe anche la linea di tendenza che scende dai massimi di aprile, il superamento della trendline che passa a 12,25 Euro circa, fornirebbe un ulteriore segnale di forza che permetterebbe al titolo di proseguire nella fase di correzione del ribasso dai massimi di aprile. Notiamo che il picco toccato il 12 ottobre coincide con il 50% di rifiacciamento del ribasso dai massimi di aprile, quindi oltre alla nostra in tendenza intorno ai 12,20-12,25 sarebbero proprio i massimi di ottobre a 12,69 Euro a rappresentare il primo target. La rottura di quella resistenza permetterebbe di avanzare ai prezzi fino al rifiacciamento successivo a 13,30 Euro. Se dovessimo assistere invece alla violazione della base dell'attuale configurazione realzista posta a 10,60 Euro, ci sarebbe un rischio elevato di ritorno sui minimi di agosto che si collocano a 9,96 Euro. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo buone feste e vi diamo appuntamento con i commenti video giornalieri alla riapertura dei mercati lunedì prossimo. Grazie.